ciao 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 come stai? benvenuto ad un altro video di... ah si, è meglio in italiano per dormire come sempre di tu e benvenuto a questo canale sono molto 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 felice che tu sia qua e se anche tu lo sei ti invito a iscriverti a questo canale e aiutarmi a migliorare e a crescere intanto oggi ti propongo un video molto 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 rilassante speciale per le persone che hanno bisogno di dormire urgentemente in questo momento quindi se ti è mai capitato o in questo momento ti capita che guardi l'orologio e pensi fra sei ore devo svegliarmi ancora non riesco a dormire e continua così poi mamma mia fra cinque ore devo alzare e non riesco a mettergli occhi se questo fosse il caso se questo fosse il caso sei arrivato al posto e al video giusto perché oggi ti farò dormire molto molto velocemente quindi la prima cosa che ti invito a fare è respirare molto profondo è a chiudere gli occhi 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 iniziamo lasciando la tua mente in bianco è bianco in bianco pianggo la tua mente si trova è pianggo pianggo respira prontamente rilassi rilassi il tuo corpo ho permesso e sentire il tuo corpo molto pesante il tuo corpo è molto pesante da questo momento non riesci più ad aprire gli occhi sono attaccati le tue scelte sono attaccati quando riesci ad aprire gli occhi E' la prima volta che i occhi non riusci a ferire le occhi ti trovi molto molto rilassato molto rilassato profondamente rilassato rilassato ti trovi rilassato il tuo corpo è pesante i tuoi occhi sono attaccati attaccati inizia a addormentarti profondamente ti stai addormentando 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 profondamente non riesci a rimanere in sveglio ti stai addormentando addormentando profondamente ti stai addormentando addormentare addormentare che Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Alla prossima io adoro assolutamente il ruolo del plastico sul micromino a quanto è di voi piace, a te piace lo sapere dei commenti a presto adesso andiamo a passare con questo tipo sul plastico vediamo come va, sono sicura che stai dormendo ti senti molto molto bene, tutto va bene ti senti molto 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 bene ok ok molto bello adesso andiamo a togliere il plastico e apropi tanto che ti stai rilassando e addormentando procederò a farti soledicino con dei massaggiatori rilassanti per farti sentire molto molto bene ok 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 Grazie a tutti. 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 Ciao ciao.